Ringrazio Dio per avermi donato questo lavoro, che poi un lavoro non è. Che tu vinca o che tu perda, porta sempre a casa una cosa, la dignità. Corri, corri finché non sarà la tua gloria a precederti. Solo in quel momento potrei rilassarti, sei una leggenda. Non ho bisogno di troppo, di tutte le cose glamour che non mi entusiasmano. Io sono solo contento di avere il gioco del basket nella mia vita. Quando ero piccolo tutti ridevano di me, se dicevo di voler diventare un giocatore di palacanestro professionista. Adesso tocca a me ridere. E quando torni a casa la sera dopo ore e ore di allenamento, non desideresti altro che tornare in palestra per continuare a puntare sempre più in alto. E poi ci sono quei momenti, quei periodi che ti riesce tutto perfettamente. Non sbagli nulla, un palleggio da mani di fata, difesa spettacolare, schiacciata che sembri di volare. E dare quel grandissimo schiaffo sul pallone e fare punto. A volte sembra impossibile, ma ci sono quelle volte che capita veramente. Se stai perdendo, ogni punto che ottieni ti dà la capacità di non mollare mai.